Ciao, oggi faremo un video bellissimo, faremo una baby challenge di forza. Vediamo chi è capace di fare più trazioni. La posizione di partenza è bella distesa, cercate di non oscillare, solo tirare, va bene? E contiamo quelle che arrivano col mento sullo stagio, va bene? Rodolfo, ciao. Ciao. Mi aiuti a fare il giudice, grazie. Eh? Cosa? Sì, sì. Chi ne sa di più, ok? Va bene. Facciamo l'ordine alfabetico inverso, quindi chi è la prima? Sveva. Sveva. Uno. Conti alta voce, eh? Tre. Quattro. Brava, Sveva! Cinque. Sei. Sei. Sette. Sveva. Otto. No, resisti, resisti. Sei, Sveva! Otto. Otto, per Sveva! Un applauso! La seconda. Noemi. Un po' fortissima, mi sembra, eh? Un po' fortissima, mi sembra, eh? Tre. Quattro. Cinque. Cinque. Dai, noi, dai, noi! Dai, dai, dai! Dai, resisti, resisti! Sei. Dai, noi! Dai! Sei! Sei! Gini. Ginevra, il numero da battere è sette, giusto? Otto. Otto. Eh, fermati. Fermati. Eh. Uno. Due. Brava! Tre, senza oscillare, eh? Dimmi. Quattro. Cinque. Sette. 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 Sette, giusto. Oi. Sette. Ma poi? abbiamo un pari merito Giulia numero da battere è sempre 8 4 5 6 7 8 9 10 10 10 per Giulia Sveva ti ha battuto la prossima volta vai Ale numero da battere è 10 10 1 2 3 4 5 6 6 6 7 8 9 10 7 6 10 9 6 10 8 10 7 8 3 4 5 7 7 8 8 8 9 10 10 11 Non frustare 2 12 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 6 6 6 6 6 7 8 9 10 1 2 2 3 3 3 4 4 4 Andiamo avanti no? Facevamo il record! Brava! Ragazze vince questa sfida Arianna! Aspettiamo che viene e esce, ok? Speriamo che questo video vi è piaciuto, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, lasciate tanti like e ricordatevi di attivare la campanella per non perdere tutte le notifiche dei nostri nuovi video! Ciao! Ciao! Ciao!